Un pezzo rappresentante del disco, un po' di come sto io, ed è scritto con Giorgina Pilozzi dell'Angelo Mike, questo centro sperimentale che sta a Roma, che credo molti di voi abbiano già conosciuto, che fa una grande festa settimana prossima, 12 di settembre. Voi non siete invitati, però se avete degli amici e li volete mandare, non c'è nessun problema. Anche all'Aquila è l'umorismo, in auge, come si può dire da un altro. Ho ricevuto un altro Dio per perdermi all'infinito e forse dopo non tornare più. E l'amata, sapendo perché, si scioglie con l'incapacità, di dire no al di sé, più caro che un po'. E' un posto per me, nel mondo. Lasciami quassù, con le cani arrivami, puoi portarmi giù. Il libero pensiero può sconvolgere il tuo piano. Il libero pensiero, in una situazione internazionale, di dire no al di sé, più caro che non tornare più. Il libero pensiero, in un luogo Check time, di dire no al di sé. Scandispondo, responsabilità Nel posto, nel mondo Lascia il mio succo e cambia le cammini e vuoi portare La repubblica, le desideri e l'unica che io abito Alima di Vito, non riesco, non confido, non esistono Spazio mobile senza valore, vado a volare La repubblica, le desideri e l'unica che io abito La repubblica, le desideri e l'unica che io abito Libero La repubblica, le desideri e l'unica che io abito Le desideri e l'unica che io abito Le desideri e l'unica che io abito Grazie 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 Grazie